Il 29 novembre, ultimo appuntamento del 2013, dei workshop organizzati dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Milano, in collaborazione con Action Group. Il tema della giornata? Ancora una volta, riqualificazione e restauro. L'incontro si è svolto nell'ormai consueta cornice della Sala San Ambrogio del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Milano. Intervenuto in qualità di relatrice, anche Elena Massetti, direttore commerciale Italia, Foster. Foster è un importatore esclusivo di un filtro solare prodotto da un produttore mondiale che è Anita Coatings. Abbiamo cinque sedi nel mondo e siamo specializzati in efficienza energetica e riduzione di carichi energetici di tutti i tipi di edifici. Noi parleremo dei vantaggi e dei benefici dopo aver applicato uno dei nostri filtri solari. Andremo poi a mostrare tutti gli edifici presenti e ovviamente soprattutto nella città di Milano, dove abbiamo effettuato questo intervento e il committente finale ha potuto beneficiare di questi vantaggi a livello economico. Io credo che sia veramente importante oggigiorno potersi aggiornare per quanto riguarda sia l'efficienza energetica e i nuovi sistemi di risparmio, proprio perché il committente ha necessità di poter monitorare e ovviamente diminuire tutti i carichi energetici, proprio in funzione di un periodo che non è proprio dei più floridi a livello economico.